Buongiorno, domani l'aprobraccella affronta la Juventus Next Gen, una squadra giovane che cambia spesso volto con diversi interpreti che si alternano anche con la prima squadra. Come l'avete preparata e che avversario vi aspettate domani in fronte sul campo? Le sede che ci aspettiamo diventa difficile perché è una società con tanti giocatori in quella fascia lì, quindi tra primavera del 23 in questo momento anche per una squadra, quindi diventa anche difficile identificare con quale 11 possono scendere in campo. Abbiamo preparato da poco tempo perché giocando domenica abbiamo avuto il monedì e il martedì preparato la gara del mercoledì. Come? E' normale che dopo la vittoria ci sia quella parte di entusiasmo che ti aiuta, quella parte di buona consapevolezza, quella parte di felicità che ti ha raggiunto un risultato importante. Mister, la vittoria, quanto inciso, perché comunque era una vittoria che si andava cercando, che si erano fatte delle belle prestazioni e non ne erano arrivati, forse nella giornata dove c'era la prova più brutta, più sporca, come aveva detto lei, che ci voleva quella pro così che non badasse al bel gioco ma badasse a sotto, è venuto un successo pesantissimo per la classifica. Ma intanto bisognerebbe fare una disquisizione universale del mondo su cosa vuol dire giocare bene e giocare male. Perché poi, ecco, i bianchi i neri, quel figlio, bisogna capire chi preferisce una cosa che preferisce un'altra. Io preferisco il risultato. Il risultato a volte lo puoi ottenere facendo determinati tipi di cose sul campo, magari anche esteticamente più belle, a volte devi fare per esigenza, necessità, delle cose magari, come ho detto in precedenza, diverse e magari meno esteticamente belle. Poi, diciamo, per me brutti e sporchi mi piace. Era la prima di otto finali, insomma, risultato più positivo, bisogna però continuare sempre con coltello tra i denti. Ma coltello tra i denti, per la mia mentalità, si deve vedere dalla prima partita di campionato, perlomeno, l'ho già detto questa cosa, sono partite di calcio, cioè c'è una componente tecnica, tattica, psicologica, fisica, quindi bisogna avere spirito, bisogna avere combattività e poi se si ha delle qualità, come credo la squadra comunque abbia, bisogna metterle nell'interno, nel contesto della partita per provare a prevalere sull'avversario. La partita è fatta di tante cose. La Juve, lo dicevano prima, è forse la squadra che ha più incogni e nole di questa campionata, perché non si sa mai tutti i giochi e come gioca, però la Provarcelli, dalla sfida contro il Pinoreppe, si era visto nel corso dei 90 minuti con Pugno Calvano e Clemente, come stanno i due giocatori e chi non avrà a disposizione lei nella gara di domani? I due ragazzi hanno subito due brutte botte, però insomma si sono allenati, hanno fatto le loro cose, vedremo se saranno nella condizione di poter giocare oppure no, comunque si sono allenati, l'unico non presente alla gara è Gian Mali. Grazie. Grazie mister.